Prima di iniziare il video, voglio gentilmente chiederti di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un mi piace. Grazie per il tuo supporto. Sofia Loren, come è noto a chi segue da vicino le ultime notizie, ha recentemente subito un intervento chirurgico a seguito di un incidente avvenuto nella sua casa. Questo incidente ha causato la frattura dell'anca di questa icona senza tempo, famosa per il suo ineguagliabile fascino e talento innato. Il dramma che si è verificato tra le pareti domestiche ha richiesto un intervento chirurgico necessario, come valutato dai medici, a causa della caduta che ha coinvolto la signora Loren nella sua dimora a Ginevra. Ma quali sono le condizioni di salute attuali di questa leggendaria attrice? Fortunatamente, per darci una panoramica completa sulla sua situazione post-operatoria, la catena di ristoranti di Sofia Loren ha rilasciato una dichiarazione oggi. Secondo quanto riportato, la caduta nella sua residenza svizzera ha causato fratture all'anca, ma l'intervento chirurgico è stato un successo. La signora Loren dovrà ora sottoporsi a un breve periodo di convalescenza, seguito da un programma di riabilitazione. È un sollievo sapere che tutto è andato per il meglio e che presto la signora Loren tornerà tra noi. Il team di professionisti che lavora per questa grande attrice italiana accoglie l'occasione per inviarle i migliori auguri di pronta guarigione e un rapido ritorno alle scene.